ancora una sconfitta per il Modena che purtroppo perde contro il Brescia per due reti a uno una sconfitta che permette alla squadra di Maran di raggiungere appunto il Modena in in classifica a 28 punti certo la cura Maran sta funzionando e sta dando i suoi frutti e il Brescia dalle posizioni basse di classifica adesso si trova a lottare per i playoff di Serie B vedremo se effettivamente continuerà questa marcia irresistibile del Brescia oppure prima o poi si dovrà fermare il Modena di Paolo Bianco deve rivedere un po' qualcosa e mettere a posto le idee per tornare alla vittoria